Ciao, siamo Vale e Orri. Oggi vi faccio la pasta brisè a modo mio. Ingredienti per la pasta brisè. 250 g di farina zero, un uovo, 90 g di olio extravergine di oliva, 2 o 3 cucchiai di acqua, un cucchiaino di sale filo. Inizio la preparazione della pasta brisè. Mettiamo la farina, il sale, mettiamo l'uovo e l'olio. Mettiamo 2 cucchiai di acqua. La pasta brisè è pronta, la copro con la pellicola. La lasciamo riposare una mezz'oretta. Ci vediamo dopo. Questa è la pasta brisè fatta a modo mio. Buon appetito! Per non perdere gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!